Per potenziare il tracciamento dei contatti dei pazienti positivi al Covid della Toscana ha reclutato 500 operatori dalla graduatoria della Protezione Civile Nazionale, che saranno a lavoro in tre centrali allestite negli spazi feristici di Firenze, Arezzo e Carrara, uno per ciascuna ASL. Nelle immagini vedete il padiglione Cavaniglia della Fortezza d'Abbasso di Firenze riconvertito da spazio espositivo a centrale di tracciamento, presentata dal Presidente della Regione Eugenio Gianni, dall'Assessore regionale alla Protezione Civile Monia Monni e dai vertici di Firenze Fiera. Alla Fortezza d'Abbasso saranno a lavoro 250 tracciatori che opereranno a turno, gli altri saranno ripartiti negli altri centri di tracciamento, 100 ad Arezzo e 150 a Carrara. 20.000 tamponi al giorno, la loro positività, il seguire i movimenti che hanno fatto, le persone che hanno contattato, è un lavoro molto importante che poi si unisce a quello che è quanto faremo con i medici di base, perché è importantissimo nel momento in cui sono seguiti i contatti, andare a seguire le persone che a casa sono venute in contatto e non se hanno qualche sintomo farli precipitare in ospedale, ma guardare di seguire la patologia a casa. Il nuovo contingente reclutato è formato da medici, infermieri, tecnici sanitari e studenti dell'ultimo anno di medicina per i quali è prevista un'apposita formazione. Gli spazi e i turni delle centrali toscane di tracciamento dei contatti sono stati organizzati in modo da garantire il massimo rispetto al loro interno delle norme anticontagio. Qua nella sede della Fortezza di Firenze vedete l'allestimento che ne accoglierà 200 divisi su più turni, sono 120 le costazioni che ho alle spalle, sono divisi in gruppi di 20, distanziati due metri l'uno dall'altro e ogni gruppo è invece distanziato sei metri. Hanno a disposizione ciascuno i propri servizi igienici perché ovviamente vogliamo che anche se l'allestimento è un allestimento, consentitemi di dire, di emergenza che possano lavorare in completa sicurezza. A meno di 24 ore, come dicevo, siamo stati in grado di fare tutto questo perché Firenze e Firenze era già pronte insieme a tutte le norme di sicurezza anti-covid che aveva messo in campo negli ultimi 4-5 mesi. È per noi un onore poter essere a disposizione della Regione per questo importante servizio. Ora 120 già pronte, le altre postazioni saranno poi preparate nell'altro padiglione Rastriglia. L'assessore alla protezione civile della Regione Toscana, Monia Monni, ha spiegato anche che dalla stessa graduatoria nazionale della protezione civile arriveranno anche 93 medici da utilizzare in supporto alle unità speciali USCA, mentre è in corso il reperimento di altri 1.500 posti letto covid per alleggerire la pressione sugli ospedali toscani.